Ed eccoci come di consueto all'appuntamento con le offerte di lavoro della provincia di Savona. Il centro per l'impiego di Savona cerca un autista manutentore per ditta di Vadoligure. Requisiti richiesti. Patente tipo C. Esperienza richiesta più di 5 anni. Esperienza nella manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi. Età minima 25 e massima 45 anni. Contratto proposto tempo determinato full time. Il centro per l'impiego di Carcare cerca un geometra di cantieri edili stradali per azienda della Val Bormida. Requisiti richiesti. Titolo di studio e diploma di geometra. Buone conoscenze informatiche. Patente tipo B. Età minima 25 e massima 40 anni. Esperienza richiesta tra i 2-5 anni. Contratto proposto tempo determinato full time. Sul sito Forma Lavoro è disponibile il bando di iscrizione al corso di aggiornamento di lingua inglese livello intermedio rivolto a 9 operatori delle piccole e medie imprese. Al termine del corso verrà rilasciato a testato di frequenza. Scadenza iscrizione 8 agosto 2014. Per maggiori informazioni consulta il sito Forma Lavoro. È aperto il bando di iscrizione al corso biennale per acconciatore edizione 2014-2016. Riconosciuto dalla provincia di Savona rivolto a 18 soggetti. Al termine del corso, previo superamento dell'esame, verrà rilasciato a testato di qualifica di acconciatore. Scadenza iscrizioni 15 settembre 2014. Per maggiori informazioni consulta il sito Forma Lavoro. Queste sono solo alcune delle offerte e delle informazioni che potrete trovare consultando il sito www.provincia.savona.it